ciao benvenuti sul canale di grazie votazioni oggi faremo un tutorial di questa sciarpa il materiale per realizzare questa sciarpa io ho utilizzato il baby loose che ho preso da sito tessilan è un 55 per cento di lana è un 40 per cento di acrilico e poi è un 5 per cento di lana metallica guardate quanto è bello questo è un color sabbia questa è la grossezza del filato per lavorare questo filato questa lana io ho utilizzato un uccinetto del 4,5 mm questa è la sciarpa l'ho realizzata con questi punti e adesso proseguiamo con il tutorial iniziamo il progetto della sciarpa eseguendo 50 catenelle abbiamo così eseguito 50 catenelle adesso proseguiamo e andiamo a seguire una catenella entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto basso entriamo nel punto successivo andiamo ad eseguire un punto basso dobbiamo eseguire un punto basso in ogni catenella fatta precedentemente cioè abbiamo fatto 50 catenelle dobbiamo andare a eseguire 50 punti bassi abbiamo così terminato il giro eseguendo un punto basso dentro ogni catenella adesso proseguiamo 3 catenelle giriamo il lavoro mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nel primo punto prendiamo il filo e tiriamo sopra mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nel secondo punto prendiamo il filo e lo portiamo sopra mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nelle prime quattro punti mettiamo il filo sull'ucinetto e rientriamo nei entrambi i punti in questo modo una catenella mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nel punto prendiamo il filo sull'ucinetto entriamo nel punto successivo prendiamo il filo e portiamo tutto sopra abbiamo cinque punti sull'ucinetto mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nei quattro punti abbiamo due punti sull'ucinetto mettiamo il filo sull'ucinetto e entriamo in tutti i due punti in questo modo queste tre catenelle equivalgono a un punto alto sia quando si inizia e sia quando si finisce si deve finire con un punto alto continuiamo e eseguiamo una catenella mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nel punto successivo prendiamo il filo usciamo e portiamo sopra mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nel punto successivo prendiamo il filo usciamo e portiamo sopra abbiamo cinque punti sull'ucinetto mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nei quattro punti abbiamo due punti sull'ucinetto mettiamo il filo sull'ucinetto e entriamo in entrambi i punti in questo modo una catenella mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nel punto successivo prendiamo il filo usciamo tiriamo sopra abbiamo tre punti mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nel punto successivo prendiamo filo portiamo sopra abbiamo cinque punti sull'ucinetto prendiamo il filo entriamo nei quattro punti abbiamo due punti sull'ucinetto prendiamo il filo e entriamo in entrambi punti una catenella mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nel punto successivo prendiamo il filo usciamo abbiamo tre punti portiamo tutto sopra mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nel punto successivo prendiamo il filo e tiriamo sopra abbiamo cinque punti sull'ucinetto mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo nei quattro punti mettiamo il filo sull'ucinetto e entriamo in entrambi i due punti continuiamo in questo modo fino a terminare il giro abbiamo così terminato il nostro giro in questo modo abbiamo terminato il nostro giro con un punto alto come abbiamo iniziato adesso continuiamo il prossimo giro eseguiamo una catenella giriamo il lavoro entriamo nel primo punto e andiamo ad eseguire un punto basso entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto basso entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto basso continuiamo in questo modo eseguendo un punto basso quando qui dove c'è l'archetto entriamo un punto basso qui sopra dove c'è punto alto eseguiamo un punto basso entriamo nell'archetto eseguiamo un punto basso sopra al punto alto entriamo e ti eseguiamo un punto basso continuiamo in questo modo fino a terminare il giro abbiamo terminato il giro eseguendo un punto basso in ogni punto adesso continuiamo eseguiamo 3 catenelle giriamo il lavoro eseguiamo una catenella mettiamo il filo sull'ucinetto non entriamo nel primo ma nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto una catenella mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo non nel primo ma nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto una catenella mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo non nel primo ma nel secondo punto punto e andiamo ad eseguire un punto alto una catenella mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo non nel primo ma nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto una catenella mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo non nel primo ma nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto una catenella mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo non nel primo ma nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto dobbiamo continuare in questo modo fino a terminare il giro abbiamo così terminato il giro adesso continuiamo in questo modo 3 catenelle giriamo il lavoro mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo in questo punto sotto che abbiamo lasciato perdere prima questo qui in questo modo prendiamo il filo usciamo portiamo tutto sopra abbiamo tre punti e andiamo ad eseguire il punto alto così mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo sopra il punto alto che abbiamo fatto prima e andiamo ad eseguire un punto alto mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo con l'ucinetto dal punto sotto prendiamo il filo sull'ucinetto e andiamo ad eseguire un punto alto in questo modo mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo sopra al punto alto che abbiamo fatto prima e andiamo ad eseguire un punto alto ad eseguire un punto alto mettiamo il filo sull'ucinetto e entriamo con l'ucinetto da sotto punto noi ci troviamo da questa parte così entriamo in sotto prendiamo il filo portiamo tutto sopra abbiamo tre punti e andiamo ad eseguire un punto alto mettiamo il filo sul l'ucinetto e entriamo sopra al punto alto che abbiamo fatto prima e andiamo ad eseguire un punto alto mettiamo il filo sull'ucinetto entriamo sotto il punto qui l'ucinetto e andiamo ad eseguire un punto alto mettiamo il filo sul l'ucinetto e entriamo sopra al punto alto che abbiamo fatto prima e andiamo ad eseguire un punto alto il lavoro esce in questo modo da un lato così e dall'altro lato e in questo modo questo è il punto alto che abbiamo fatto sopra al punto alto e questo è il punto che abbiamo ripreso sotto all'altro punto esce in questo modo proseguiamo mettiamo il filo sull'ucinetto e entriamo nel punto fatto prima sotto prendiamo film usciamo portiamo tutto sopra abbiamo tre punti e andiamo ad eseguire un punto alto mettiamo il filo sull'ucinetto e entriamo nel tutto alto sopra al punto alto che abbiamo fatto prima e andiamo ad eseguire un punto alto mettiamo il filo sull'ucinetto e entriamo sotto noi ci troviamo in questa posizione entriamo sotto qui entriamo sotto al punto prendiamo il filo portiamo tutto sopra abbiamo tre punti e andiamo realizzare un punto alto dobbiamo continuare in questo modo fino ad arrivare in fondo al giro abbiamo così terminato il giro il procedimento dello scialle è così come vi ho fatto vedere si comincia con i punti bassi poi si prosegue nel realizzare questa lavorazione poi si prosegue nel realizzare questa lavorazione è tutto questo adesso continuiamo riprendiamo da questo punto dal punto basso continuiamo e realizziamo una catenella giriamo il lavoro entriamo nel primo punto e andiamo realizzare un punto basso nel punto successivo e andiamo realizzare un punto basso proseguiamo e realizziamo un punto basso entrando in ogni punto io sono andata avanti a realizzare un pezzo questa è la sciarpa come esce con i punti che vi ho spiegato questo davanti e questo è dall'altra parte quello era al di dietro questo davanti la sciarpa esce in questo modo con i punti che vi ho spiegato partendo dal punto basso poi da questa lavorazione a intreccio poi questa lavorazione e si tratta di un punto preso in alto e un punto preso in basso è un punto basso questa lavorazione della sciarpa il tutorial è così terminato vi mando un saluto ciao al prossimo video